Siamo arrivati al giovedì, quarto giorno del nostro campus estivo. Oggi vivremo un'esperienza un po' all'americana. Quattro workshop con quattro sessioni a giro, in cui tutti potranno assistere a piccoli gruppi a delle lezioni operativo-pratiche su quattro tematiche. I PON e quindi l'accesso ai finanziamenti anche statali per le scuole paritarie attraverso la presentazione dei progetti, l'inclusione dei BES e dei DSA, il coding e la robotica e infine, anche se non meno importante, la privacy. Questi quattro laboratori, in piccoli gruppi appunto di 7-10 persone, i partecipanti potranno fare domande precise e sviluppare il più possibile, anche se per piccoli frammenti, queste quattro tematiche. Saremo accompagnati da Italo Ravenna, Alberto Somaschini, Mavi Lodoli, Emanuele Montemarano e Paola Rapponi.